Non è che sta a fare, sti fatto un giornale, se ne vedo la meglia, se ne vedo la meglia, se ne vedo la teglia. Le moto basta su, la navarca, la tecman è rimasta, se non da poco impressionare, se non da poco impressionare, se non da poco impressionare, se non da poco impressionare. Le moto cambia, se ne vedo la meglia, se ne vedo la meglia, se ne vedo la meglia, se ne vedo la meglia. Grazie a tutti.